Organizzata dall'Associazione Culturale Villaggio di Ofolè, si è svolta nel Teatro Comunale di Sant'Iodoro Femini, una serata dedicata alle donne e quelle donne che, come scritto nella locandina dell'evento e tratto da Virginia Woolf, devono sempre ricordarsi chi sono e di cosa sono capaci. L'Associazione Villaggio di Ofolè è stata costituita con l'intento di incentivare lo sviluppo e la coesione sociale. È nato così il progetto Femini, in collaborazione con l'Assessorato le politiche sociali e con il patrocinio del Comune di Sant'Iodoro. La serata è iniziata con Donne leggono donne, un reading letterario sulla donna raccontata attraverso la penna di scrittrici senza tempo. Scritti di Alda Merini, Virginia Woolf, Barbara Alberti, Dacia Maraini, Natalia Ginsbul e Concita De Gregorio sono stati letti da Marzia Meloni, Serena Nieddu, Annalisa Uda, Margherita Lecca e Gabriella Folino. L'architetto Antonello Cucco ha poi tracciato un ricordo di Maria Lai e di Irene Comalisca, due artiste che hanno segnato la cultura visiva del ventesimo secolo, mentre il dottor Marco Bomboide, la divisione di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha trattato il tema ricostruzione mammaria e qualità della vita dopo la mastectomia. Femini ospiterà inoltre fino al 13 dicembre un percorso espositivo comprendente una personale di Deborah Murgia, una di Roberta Vacca, un gruppo di opere realizzate dalle ospiti del Centro Antiviolenza, prospettiva donna di Olbia e il progetto fotografico Sguardi di donne oltre l'isola, l'Europa e i continenti di Angela Bacciu.